La pace si è con voi. Oggi e sempre. Maestri, fratelli, cari amici, qualcuno di voi ha detto ho scoperto di essere sempre felice, di essere sempre serena. E ha detto il vero. Poiché quello che sperimentate è nato proprio con l'intento di rendere felici. Per quale ragione? I vostri bimbi giocano per divertirsi. E la felicità amati maestri è il vostro stato primo nella danza del tempo. Avete immaginato il tempo vi avete immaginato immergervi in esso fino a diventarne i protagonisti per essere felici, per divertirvi. ma il maestro poc'anzi ha anche detto sono sempre felice. Peccato che lo dimentico. ecco ecco l'avete dimenticato e lo rincorrete e pensate di ritrovarlo nel tempo. ma è naturale maestri che se siete identificati in esso attraverso la vostra immagine non potete viverlo che a sprazzi a istanti a istanti poiché quanto richiamate è diventato gioco peso dolore dolore morte ma Gaël l'ha detto innumerevoli volte che tutto attiene all'identificarsi nell'immagine nella personalità l'ha detto